Ciao capo, oggi domenica, bella 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 giornata, oggi come primo ottobre, auguro a tutto il mondo buon inizio del mese, per gli operai, coraggio di lavorare, forza di lavorare, ascoltate i vostri capi, non venite un giorno a lavoro, 10 no, non fate figlio di voi, perché se no niente è bonifico, invece per i capi vi dovete comportare bene con i vostri operai, se non li trovi così a stazione, che arriva al treno in stazione e si ribalta di operai, ti comporti bene, se non li trovi più, poi non ti lamenti che non trovo, dammi un operai, non c'è, comportati bene quando hai uno buono, anche pagalo, invece per chi è senza lavoro, per i disoccupati, per i licenziati, chi non vuole lavorare, riposate fino a Natale, no, dormite, mangiate, poi quando arriva Natale, prendete ancora un'altra pausa fino a Pasqua, c'è tempo di riposare, fai un TikTok, vai in giro, compri vestiti, stai tranquillo, non vi preoccupate, se non volete lavorare, state a casa, che ormai avete soldi, state in casa di genitori, non pagate l'affitto, ci sta, no? Dai, solo questa cosa ho avuto da dire, dai, buona domenica a tutti i amici, dai, ciao, ciao, ciao.